Hanno bisogno di un po' più di tempo, però Inazuma Eleven verrà rilasciato in tutto il mondo. CONTEMPORANIAMENTE! Ehi, ciao a tutti! Ben trovati e benvenuti in questo nuovo video per Inazuma Eleven Heroes Victory Road. Dopo il Level 5 Vision, Akiroin ha detto che avrebbe presentato nuove informazioni sul blog di Level 5. E quindi noi andiamo a vederlo. Dunque, abbiamo il trailer di presentazione di Inazuma Eleven Heroes Victory Road, ma abbiamo anche qualche informazione aggiuntiva. Oltre alle nuove immagini, abbiamo anche la conferma di quello che ho trattato appunto nello scorso video. Ovvero, chi è Haru Endo? Qualcuno che è legato a Mark Evans, a Endo Mamoru? Ebbene sì, perché le avventure si svolgono 25 anni dopo quelle che conosciamo. E abbiamo anche informazioni su Endo Haru, che è il figlio di Endo Mamoru. Quindi lui è il figlio di Mark Evans. Insomma, finalmente Mark Evans ha un figlio. Però si svolge 25 anni dopo il primo Inazuma Eleven, non Inazuma Eleven Go. Quindi dopo le avventure del primo. Eh, Mark Evans ha 40 anni. Ma... Ma cavolo, si è figliato presto allora. Quindi è quasi probabile che lui avesse un figlio negli eventi di Go. O stava per averlo comunque. Quindi... Tanta roba, tanta roba. Wow. Qui sotto poi abbiamo anche qualche altro bozzetto. Questa è la torre Inazuma, che non verrà mai abbattuta. Comunque nei giochi continuerà a esistere e perdurare. Le avventure si sono sempre svolte alla scuola Raymond. Invece stavolta la scuola si chiama Nagumo Bara. Eccola qua, la vediamo in tutto il suo splendore nel bozzetto. Ok. Qui abbiamo anche uno dei nuovi personaggi. Che si unirà sicuramente al club di calcio. Qui li vediamo in allenamento. Un Meisa Sanami fa l'allenatore, praticamente. Una città fittizia di Nagasaki. Nagumohara. Dove appunto c'è la scuola. Questo, tra l'altro, questo qui, Sarkiapone, è un altro che gioca a calcio. L'abbiamo visto anche nei trailer. E tutti i personaggi che sono già apparsi nel corso di Inazuma Eleven faranno il loro ritorno. Quindi possiamo scegliere fra più di 4.500 personaggi. Boh, è devastante. Davvero, davvero figo. C'è davvero l'imbarazzo della scelta. Spero solo che si possa scegliere anche tra quelli che abbiamo visto in Orion. In un vecchio comunicato stampa in Odisse DC. Poi abbiamo il nuovo caravan che ci trasporterà anche per le varie aeree, come mostrato sempre nel trailer. Ok, ci sta. E la produzione, appunto, come dicevo anche nell'altro video, è dello studio Mappa. Noto per l'animazione di alta qualità per produrre la parte dell'animazione. Sì, si è un po' ripetuto. Facendo uso del lavoro svolto fino ad ora, sfiderò a me stesso a creare nuovi livelli di schermini. Vabbè, probabilmente per come metteranno le immagini. Quanti soldi hanno speso? Non ne ho idea. Si vede che PuniPuni paga bene. Allora, hanno bisogno di un po' più di tempo. Però Inazuma Eleven verrà rilasciato in tutto il mondo. Contemporaneamente! Bomba. La prossima grande informazione sarà rilasciata attorno all'estate. Esiste una versione Fire Blizzard. Qual è la sigla di questa volta? Più come nuovo personaggio? Qualcosa di più su nuovo personaggio? Cosa si inventerà la squadra nemica? Chi è cast principale? Ok, quindi intorno all'estate avremo queste informazioni. Probabilmente uscirà questo inverno. Perché se in estate ci danno altre informazioni, sicuramente uscirà questo inverno. Quindi tra luglio e agosto al 100% le nuove informazioni. Giugno no, perché giugno è la stagione delle piogge in Giappone. Quindi sicuramente tra luglio e agosto avremo le nuove informazioni. E quindi, ragazzi, contemporaneamente. Questa è la cosa più grande. Contemporaneamente in tutto il mondo questa è la cosa più importante di questo Inazuma Eleven. Faccio gli abbonamenti pure per PlayStation per giocare online. Ma stiamo scherzando? Ma mi dissangue il portafogli. Ma porca miseria. Boh. Ragazzi. Che dire, level 5 è tornata. Level 5 è risorto dalle ceneri. E sta andando alla grande. E non l'ho mai detto, ma... Giochiamo a calcio. Giochiamo a calcio. Grazie a tutti.